Ehi, bentornati su Breaking Italy, ho poca voce, dovrete accontentarvi. Parliamo di lui, Luca Morisi, 48 anni, ex consigliere provinciale della Lega, ma soprattutto spin doctor, in particolare per quanto riguarda l'online, di Matteo Salvini. Tutti quanti lo conoscono essenzialmente come il creatore della bestia, la macchina social propagandistica del leader del carroccio. E lo saprete, perché se ne parla da due giorni e ieri io non c'ero per altri impegni, che Morisi è iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di sostanza stupefacente. Peraltro, piccolo inciso, ieri non c'ero perché stavo registrando il podcast e dopo il primo blocco di oggi conoscerete il nome del nuovo ospite. Grazie per ieri, davvero. Partiamo dal principio, cosa è successo? Ad occuparsi della vicenda sono stati principalmente tutti quanti i giornali italiani in questi giorni, forse meglio di tutti lo ha fatto Repubblica, perlomeno nello spiegare le dinamiche degli eventi. Sostanzialmente Morisi possiede un appartamento in un complesso ricavato da una vecchia cascina e in questo appartamento nel Veronese, a sentire i racconti dei vicini, i raggiunti della Repubblica, sembra non passi molto tempo in genere, ma ha trascorso qualche giorno sotto Ferragosto con un altro uomo di circa la sua età, che non è chiaro se sia un suo amico, un parente o un amante, visto che non ci sono molte informazioni e nessuno le aveva chieste, ma a far emergere la pista dell'amante sarà poi il senatore leghista Pilon, in un'intervista patetica concessa oggi al Foglio e di cui si è molto parlato, ci arriviamo. A Ferragosto quindi, Morisi è con un'altra persona in casa e nella notte tra il 13 e il 14, secondo gli inquidenti, queste due persone ne accolgono altri due, due ragazzi romeni di circa 20 anni che avrebbero conosciuto online. I quattro trascorrono a casa di Morisi circa 12 ore, alcuni giornali dicono di più, poi i due ragazzi se ne vanno e, fatta l'ità, vengono fermati dai carabinieri per un controllo che, classicone, si insospettiscono, perquisiscono la macchina, trovano una fialetta con quello che i due ragazzi dicono essere GHB. I racconti dei giornali parlano principalmente di GHB e le indagini in laboratorio non sono state fatte, quindi io non lo so se era GHB. Loro dicono così. In generale, comunque, il GHB, come il GBL, sono due sostanze illegali di cui si parla molto sui giornali in questi giorni e sono spesso usati alle feste. I due ragazzi rumeni sono molto veloci a puntare il dito contro Morisi e dire è stato lui a fornici la sostanza. Quindi, passaggio successivo, ovvio. Perquisizione dell'appartamento di Morisi, salta fuori anche un pochino di cocaina, meno di 2 grammi, che è comunque illegale, ma esclude la possibilità che si trattasse di spaccio. E quindi, escludendo appunto quell'ipotesi, finisce che Morisi è accusato di aver ceduto una sostanza stupefacente a questi due ragazzi, per cui rischia dai 6 ai 20 anni di carcere e una multa che può arrivare a 260.000 euro. Perché le nostre leggi sul contrasto alle droghe sono assolutamente sensate. Da 6 a 20 anni. Certo, perché no? Perché non l'ergastolo, visto che ci siamo. Insomma, da quello che emerge dalle prime ricostruzioni, che poi andranno provate in tribunale, ci sarà un processo, se ne parla tra un bel po', in quelle ore a casa Morisi parrebbe esserci stata una festa. E a questa festa, come intanto capita, si potrebbe essere fatto uso di qualche sostanza. Probabilmente in maniera un po' occasionale, un po' casual, visti i quantitativi rinvenuti dai carabinieri, che non mi sembra siamo di fronte a una banda di narcotrafficanti, ma appunto a 4 persone che potrebbe essersi fatta la seratina. Peraltro, una cosa che confonde è che alcuni giornali chiamano la sostanza rinvenuta la droga dello stupro, perché soprattutto il GHB, se è usato in dosi massicce, è un potente narcotizzante, gli fa perdere i sensi. Ma in dosi più contenute è largamente utilizzato come può esserlo l'alcol, come disinibitore, come calmante. Al solito, nel descrivere i veleni, soprattutto quelli che non conosciamo, diversamente dall'alcol, ci dimentichiamo che è anche e soprattutto il quantitativo da tenere in considerazione. Quindi, cosa succede? Secondo Repubblica, Morisi cerca di tenere la questione il più possibile sotto la sabbia. Però poi l'indagine diventa di dominio pubblico e, guarda caso, poco tempo prima che questo accada, Morisi si dimette dalla guida della bestia. Questo allontanamento e queste indagini hanno generato un po' di reazioni e anche io ho qualcosa da dire. Quindi, da qui in poi, spezziamo il tutto in tre blocchi. C'è la questione ipocrisia, c'è la questione Salvini e c'è la questione Pilon, che è la più gretta e la lasciamo per ultima. Punto 1. Innanzitutto, tantissimi osservatori reagiscono con rabbia allo scoprire che Morisi, che è niente meno la persona che ha guidato il focus comunicativo della lega di Matteo Salvini, fosse tanto ipocrita ad aver alimentato una precisa narrativa su alcuni temi molto utilizzati della propaganda leghista. La droga a casa, per usare un termine che a me non piace, ma è caro la destra. I ragazzi romeni, la festicciola, perché tutto questo si contrapone alla propaganda crudele sui migranti, ad esempio, sui diversi, sui cosiddetti drogati, sui centri sociali, per non parlare di tutte le mosse schifose come prendere le foto delle ragazze che contestavano Salvini per darle in pasto ai social. Le due cose sono evidentemente estremamente in conflitto. Ed è vero, lo sono. Ma una cosa che bisogna tenere presente è che il mondo della politica, soprattutto di un certo tipo di politica, è lontano anni luce dal pianeta della coerenza. Sono proprio due cose collocate su due galassie differenti. La retorica dei drogati, ad esempio, che minacciano i nostri figli, o quella dei diversi da guardare con sospetto, sono sempre armi che si utilizzano contro gruppi considerati nemici lontani. Sono i comunisti il problema, sono i centri sociali, sono i musulmani che arrivano sulle barchette. Nessuno che aderisca a questa retorica, che voti convintamente lega perché il nemico di queste categorie, se ne sente parte. Ma vogliamo forse credere che dei milioni di voti leghisti che sostengono questa lotta alle droghe senza sé e senza ma, nessuno faccia uso di sostanze? No, è impossibile. È semplicemente che l'elettorio di estrema destra non è parte delle categorie prese in considerazione. Non è viciatto un comunista, lui né tantomeno un migrante o un drogato. E se qualche volta fuma una cannetta, o va a cercare fortuna all'estero, o prende il reddito di cittadinanza, beh, lui è giustificato perché non è quella roba lì. Sono gli altri il vero problema. Ora, non so se questo sia il caso di Morisi. Può semplicemente essere anche che sia un uomo che razzola in un modo, ma poi per convenienza economica fa un'altra cosa, per carità. Però eviterei di buttare tutto sulla morale. Non c'è nessuna morale in questi casi. È tutto un gioco delle parti. Punto 2. Salvini. Il leader della Lega, infatti, in risposta a un comunicato diffuso da Morisi che parlava di questo evento come un momento di grande fragilità esistenziale e risolta, ha pubblicato questo post che dice Quando un amico sbaglia e commette un errore, prima ti arrabbi con lui, ma poi gli allunghi la mano per aiutarlo a rialzarsi. Amicizie e lealtà per me sono vita, ti voglio bene amico mio, su di me potrai sempre contare. Ah, perfetto. E questo è il momento in cui si chiudono finestre e portelloni, perché nuovamente vengono giù accuse di ipocrisia come pioggia, e stavolta revolte a Salvini. Ora, sia chiaro, da una parte non c'è dubbio che sia ipocrita, Salvini suona i citofoni per chiedere alla gente se spaccia, e di nuovo suona da loro, da un immigrato, da un nemico, mentre con il suo federe braccio destro parla di un amico che sbaglia, va aiutato a rialzarsi. Però attenzione anche qui, perché c'è un passaggio che non vedo evidenziato da nessuno e che invece è molto importante. Salvini con questo post non sta parlando a me, e se non sei parte di una specifica categoria dei suoi elettori, non sta parlando nemmeno a te. Sta parlando ai suoi, e sta veicolando un messaggio valoriale, peraltro incarnando uno dei capisaldi della destra, che è la lealtà. Capisaldi ideologici, si intende, ora vediamo che poi nella realtà non è sempre così, grazie all'intervento di Pilon, ma da sempre le destre si freggiano di questo valore. La lealtà, la forza del gruppo, il rispetto delle gerarchie, il legame indissolubile tra compagnero, schiamatelo come volete. Robe che poi vanno spesso abbracciato con tutto un immaginario macista dell'estrema destra. Ma insomma, siamo lì. Salvini dice, io mi arrabbio, ma non lascio indietro uno dei miei. Poi, è ipocrita che i drogati in questa concezione folle della società debbano andare in carcere subitissimo. E a Morisi si tende la mano, certamente, ma Morisi non è mica un drogato, è uno dei nostri. E quindi il messaggio passa fortissimo. La destra non abbandona i suoi. Punto 3 e abbiamo finito. Pilon. La destra è così coesa, è così leale, che il senatore Pilon è sostanzialmente andato a fare outing a Luca Morisi, quello che sembra di capire perlomeno, rispondendo alle domande di Simone Canetteri sul foglio di oggi. Pilon, infatti, che è espressione della iperconservatrice, iperreligiosa della Lega, parla di Morisi come di qualcuno che non gli è mai piaciuto, e che ha fatto una lotta interna per provare ad allontanare Salvini dal suo family day, cioè la famosa kermes della famiglia anti-tutto, anti-gay, anti-arcobaleno. E ne parla con letteralmente un'allusione all'orientamento sessual di Morisi, che il senatore ascrive a quella che lui stesso chiama la corrente Mykonos della Lega. Si chiama così ovviamente perché Mykonos è la località turistica greca che ha la nomea di essere un luogo particolarmente amichevole alla comunità LGBT. I gay del mio partito, dice Pilon, sono tantissimi, li conosco tutti, non bastano due mani per contarli. Ora, del malcelato disprezzo per i colleghi gay da parte di Pilon neanche ne parliamo. È ovvio che ci siano omosessuali nella Lega, perché ci sono omosessuali ovunque, è solo che in alcuni luoghi si sentono più tranquilli a farlo sapere in giro, in altri meno. Ma è su un passaggio che l'intervista diventa super patetica. Cioè, quando Pilon ha la domanda su un eventuale cerchio magico di Salvini che si restringe, con due alleati come Morisi e Durigon saltati in poco tempo, risponde che gli dispiace vedere che Matteo, a cui vuole bene, lui lo sa, si circondi di persone sbagliate, lasciando quelli come lui, quelli come Pilon, in seconda fila. Che è una frase così molle, così triste, diciamo che questa frase serve a chiudere il cerchio. Sia chiaro, infatti, che l'ideale di lealtà rimane poi spesso un ideale, lo vediamo qui. Com'è vero che tante volte l'ideale di tolleranza a sinistra è allo stesso modo espresso a parole, ma non esibito nei fatti. Dipende dagli individui. Quindi, giusto per dire che, certo, la destra ha questo ideale di alleanza e tutti amici e facciamo quadrato, però poi non necessariamente le cose vanno così per tutti. Che è un po' il punto finale che vorrei portare qui. In questo si vede una differenza tra la sinistra e la destra nel nostro paese. Cioè, come queste forze reagiscono alla crisi. Mentre a sinistra si fa la gara a chi è più puro, infatti, vi ricorderete la senatrice Cirinna che veniva attaccata dalla sua stessa base, per una frase un po' infelice, sulla propria governante, ad esempio, a destra no. Si fa quadrato, ci si chiude al riccio. Immagino sia anche una questione relativa alle sensibilità diverse degli elettorati, ma lascio che siate voi a dirmi cosa ne pensate. Sto parlando da troppo tempo, quindi ho detto quello che volevo dire, credo. Rieccoci! Quindi, sto per introdurre lo sponsor di oggi, che è Gimme5. E questo sapete cosa significa? Sto anche per dirvi chi sarà il prossimo ospite del podcast. Che è Francesco Costa, il vice direttore del Post, esperto di Stati Uniti, conduttore del podcast Morning, e spoilerone su Instagram rispetto alle sue presenze nei podcast altrui. So che il Post è un giornale molto apprezzato da molti di voi, Francesco lo è altrettanto, il suo Morning è ascoltato, i suoi libri letti e discussi nella community. Quindi, mi sembra un'ottima occasione per parlare di un sacco di argomenti. Cose statunitensi, giornalismo in Italia, all'estero, nuovi media, fare giornalismo sui social e con i podcast. È un po' quello che volete, in realtà. Al solito, il club sarà in grado di proporre delle domande che mi aiutano ad orientarmi. E i biglietti sono già in vendita in questo momento, con una piccola clausola che adesso spieghiamo molto bene. I biglietti sono in questo momento in vendita per i membri elite del club, quelli che hanno questo abbonamento, per appena 24 ore però, praticamente sino alla puntata di domani. Purtroppo siamo ancora un po' strettini con i tempi, lo so che abbiamo appena finito l'altra puntata e così per adesso. Dopo saranno aperti anche i membri del club che sono dentro questo abbonamento e lo saranno sino a mercoledì 6. Poi a quel punto chiunque anche non appartenente al club potranno prenotare i biglietti e la puntata sarà registrata lunedì 11 ottobre. Più chiaro di così non so se posso essere. Se siete già iscritti date un'occhiata al vostro feed o alle mail che vi dovrebbero arrivare con le notifiche così nel caso non vi perdete i biglietti. Per il resto, grazie a tutte le persone che erano ieri in teatro, super apprezzato, molto emozionante, è grazie a Gimme5 che mi sta dando un'enorme mano a sostenere la nuova stagione. Gimme5, lo dico soprattutto per i nuovi e gli indecisi, è un'app che permette di avvicinarsi con facilità al mondo del risparmio gestito, che significa mettere da parte delle somme di denaro investendole in dei fondi che vengono poi gestiti dagli esperti di una società italiana che si chiama A come A. È un prodotto molto semplice da utilizzare, principalmente adatto a chi non abbia dimestichezza con i concetti di risparmio e di investimento proprio perché tutto è congegnato per prendere per mano l'utente e condurlo piano piano sia a comportamenti virtuosi, cioè l'idea di disegnare parte delle proprie entrate mensili al risparmio, che a comprendere le basi dell'investimento vero e proprio, che vengono trasmesse tramite piccole guide che l'app di volta in volta pubblica e che potete consultare direttamente dal telefono. Quindi, come funziona? Voi inizialmente non dovete metterci niente, se passate tramite me avete 5 euro di ingresso. Scegliete un fondo tra quelli disponibili, ce ne sono un sacco, tutti dotati di una scheda riassuntiva, tutto molto trasparente. Poi, magari, vi scegliete un obiettivo, ad esempio, mi voglio comprare la barca, ho bisogno di top denaro, non so quanto costa una barca. Poi, se non vi va, guardate semplicemente cosa succede a quei 5 euro, per capire. E invece, se vi va, ce ne mettete altri e iniziate a costruirvi un piccolo patrimonio che potete ovviamente disinvestire nel momento in cui quei soldi dovessero servirvi. In generale, comunque, lo dico sempre, gimme 5 o non gimme 5, l'obiettivo è un po' entrare in confidenza con il concetto di risparmio, in ottica di lungo termine, è qualcosa a cui tutti dovrebbero pensare. Se gimme 5 può essere lo strumento o uno degli strumenti che vi aiuta ad aprire questa porta, benvenga, soprattutto se passate tramite me. Codice Italy 5 che potete utilizzare in fase di iscrizione. Grazie a gimme 5 e a da come apri il supporto. Per il resto ci vediamo in teatro tra due settimane. Non saranno sempre così vicine le date comunque, è adesso che siamo ancora agli inizi ed è tutto di corse ed è tutto un casino. Anche perché se non muoio. Bene, ora parliamo di politica tedesca, tanto lo so che ormai vi siete abituati a questa voce meravigliosa. A breve la mia candidatura per condurre trasmissioni radiofoniche notturne. Oggi infatti si sono aperti i negoziati per formare una nuova coalizione di governo in Germania. Negoziati che non si prospettano affatto semplici a causa dell'atipicità delle elezioni federali domenica scorsa che si sono tenute per la rielezione del Bundestag, il Parlamento federale tedesco. Come forse già sapete il partito che ha emerso vincitore è l'SPD o Partito Socialdemocratico di Germania con a capo il candidato cancelliere Olaf Scholz. Ma chi è Scholz? E perché i negoziati sono un po' più strani del solito? O un po' più difficili del solito? Forse? Andiamo con ordine. Angela Merkel, prima cancelliera donna della Germania, ha ricoperto questa carica dal 2005 ad ora come leader fino al 2018 per rimanere poi l'esponente più riconoscibile del suo partito, il CDU o Unione Cristiano Democratica di Germania. Un partito tendenzialmente di centrodestra e conservatore che è spesso accostato alla vecchia democrazia cristiana italiana per renderlo più facilmente leggibile ai nostri occhi così non pensiamo che sia come la Lega. Merkel, lo sapete, ha ricoperto e ricopre tuttora un ruolo fondamentale non solo a livello europeo ma anche internazionale. Ad esempio nel 2015 è stata definita dal Time la persona dell'anno e nel 2018 la donna più influente del pianeta. E non è difficile quindi immaginare come la fine dei suoi mandati, visto che ha da tempo annunciato che si sarebbe ritirata dalla politica attiva, possa rappresentare un importante momento di cambiamento in cui la leader sta lasciando vacante un posto che per l'ultima decade è stato fondamentale per l'intera Europa, un po' un punto di riferimento, sia per gli ammiratori che per i detrattori. Detto ciò, a subentrare come candidato cancelliere all'interno del partito di Merkel è stato Armin Laschet, presidente del CDU da quest'anno, e trattandosi del partito che ha governato per tutto questo tempo, il risultato delle elezioni di domenica ha lasciato interdetti a alcuni osservatori. Il CDU ha infatti perso quasi 9 punti percentuali rispetto alle scorse elezioni e tantissimo, vedendosi superato dall'SPD e dai socialisti di circa un punto e mezzo. Per la prima volta dal dopoguerra inoltre, e questo è un dato importante, i due partiti storici sono al di sotto del 30%, CDU 24,1 e SPD 25,7. Per avervi un'idea, in questa infografica potete notare la crescita e la decrescita delle preferenze ai partiti, che mostra con chiarezza la perdita di consenso del centrodestra. Ma cosa ha portato a questo ribaltamento? Una delle ragioni principali risiede in chi di fatto ha corso per la carica da cancelliere per entrambi i partiti. Da una parte c'è l'esponente di centrodestra, Laschet, che vi ricorderete aveva fatto parlare di sé negli ultimi mesi per alcuni scivoloni, non ottimali. Questo è ad esempio lui che ride e scherza mentre il presidente tedesco Steinmeier esprime parole di solidarietà nei confronti delle famiglie colpite dall'alluvione, o qui lo vediamo in immagini che lo ritraggono durante il voto, con la scheda piegata dalla parte sbagliata che mostra quindi la casella barrata dal politico. Ok che quelle schede, una volta aperte, è un casino a richiuderle, lo so, ma questa immagine è diventata un po' il simbolo di un personaggio considerato inadatto a prendere il posto di Angela Merkel alla guida del paese. D'altra parte, dicevamo, i socialdemocratici hanno invece spinto in avanti il loro candidato Olaf Scholz, ex sindaco di Hamburgo, attuale ministro dell'economia e vicepresidente alla cancelleria. Durante la sua carica da ministro Scholz ha avuto modo di farsi apprezzare molto a livello nazionale, in particolare grazie alle capacità dimostrate nella gestione dell'epidemia, sostenendo la distribuzione di fondi pubblici di sussidio ed essendo tra i principali autori e promotori dell'ormai famoso fondo per la ripresa dell'Unione Europea, cioè il Recovery Fund, per capirci. Scholz è insomma un personaggio molto più apprezzato che ha avuto la capacità e ovviamente anche la fortuna di incanalare sui socialisti un bel po' di consenso. Quindi, cosa succede adesso? Succede banalmente che è necessario che i partiti più votati si mettano d'accordo per creare una coalizione di governo. Oltre ai due partiti principali che ho citato sino ad ora, infatti, fanno il loro ingresso sulla scacchiera altri due che si ritrovano, pur nella loro minoranza, ad avere fra le mani il potere concreto di decidere come andranno le cose. Parlo dei verdi, che come vedete dal grafico sono cresciuti parecchio, anche se meno delle aspettative, sono al 14,8%, e del partito liberal democratico è cresciuto pochino e rappresentante dell'11,5% dei voti. E perché sono importanti? Perché c'è un aspetto che è fondamentale, cioè che il centro-destra e il centro-sinistra hanno escluso la possibilità di costruire un'alleanza per governare assieme, come hanno fatto altre volte in passato. E questo passaggio banalmente conferisce ai partiti più piccoli un ruolo chiave, cioè quello di poter fare o disfare il futuro governo, anche se in generale la politica tedesca tende ad essere meno turbolenta della nostra, meno cose strane, meno robe scoppiettanti. Ad ora, comunque, l'ipotesi più probabile sembra la cosiddetta coalizione semaforo, che vede l'unione dei socialdemocratici, quindi il rosso, dei verdi, che sono appunto il verde in questo semaforo, cioè in generale è un partito che tende a sinistra, europeista, comparò al centro le tematiche ambientali e che quindi può andare d'accordo con i socialisti, e infine i liberali democratici, indicati in genere con il giallo, che se entrasse nell'alleanza garantirebbero nel Bundestag una maggioranza di 416 parlamentari su 735. In generale, mi ripeto, è un passaggio fondamentale, non solo perché il centro-destra perde il controllo del Bundestag dopo tanto tempo, ma perché questo nuovo Bundestag dovrà poi votare per il nuovo cancelliere, che stando così le cose con ogni probabilità sarà Scholz, che a quel punto si ritroverà a dover prendere il posto di una dei leader politici più celebrati e longevi di una delle democrazie più importanti d'Europa. Nessuno può immaginare come andrà, ed è un po' il bello ed è anche un po' il brutto. In ultimo, perché non allietarci con la polemica del momento? È la polemica di ieri, in realtà ci arrivo tardi. Molti di voi avranno poi visto le immagini di questa particolare statua, per quelli che ancora se la fossero persa. Aspettate ancora un attimo e poi ve la mostro. Ora, stiamo parlando di una statua che si trova a Sapri, in provincia di Salerno, nel sud campano, e raffigura la Spigolatrice, ispirandosi alla poesia del 1858 di Luigi Mercatini, cioè quello di una donna che in vaghitasi del patriota, antiborbonico, pisacane, molla la sua attività per unirsi ai rivoluzionari. Ora, la Spigolatrice è una contadina povera che svolge l'attività di raccogliere da terra le spighe di grano rimaste dalla mititura, perché ogni singola spiga era importante perché si moriva di fame, non è che si potesse fare gli splendidi. Ed è stata ritratta così. Questa è la Spigolatrice. Ora, non giriamoci attorno. Questa sessualizzazione di una figura, che detta di molti non dovrebbe essere sessualizzata, ha acceso qualche malumore e sollevato qualche accusa di sessismo. E, in particolare, a pronunciarsi in merito, sono la deputata democratica Laura Boldrini e la senatrice democratica Monica Cirinna, che hanno chiesto la rimozione dell'opera. Di contro, l'autore Emanuele Stifano, un giovane artista locale, si è detto amareggiato per le svariate critiche, parlando di altre sue opere che ritraggono corpi maschili poco coperti e ricordando che il suo obiettivo non era essere storicamente accurato nel riportare le fattezze di una contadina dell'epoca, ma di creare, a suo dire, un'immagine più ideale, prendendosi una libertà artistica. Antonio Gentile, comunque il sindaco di Sapri, ha difeso la statua, ha detto che questi attacchi sono politicamente motivati, quindi la statua rimane lì. E a giudicare dai suoi social una parte della cittadinanza sembra concorde sul fatto che la statua sia bella e vada bene così com'è. Ora, sinceramente, il dibattito sulla proprietà o meno di sottolineare la rotondità del sedere della spigolatrice io lo trovo molto poco entusiasmante. Non saprei nemmeno bene cosa dire. Che sì, è vero, non era necessario sessualizzare la contadina, però è anche vero che le statue sono spesso così. Sottolineano i muscoli nell'uomo, le curve nelle donne, l'arte e spesso nudità. Va bene tutto, va bene tutto. Non credo sarà il dibattito su una statua ose a muovere di un millimetro il dibattito sul sessismo nel nostro paese. Ma ecco, al massimo si può usare come termometro questa storia, che un po' ci indica dove siamo messi. Voi cosa avete provato vedendo quella statua e le successive polemiche? Vi siete arrabbiati? vi siete indignati? Non ve ne frega niente? Avete portato gli occhi al cielo? Perché forse la questione è lì. Di nuovo, parliamo di distruggere una statua, parliamo di distruggere un simbolo e ancora una volta c'è chi è a favore, chi è contro e chi, mi ci metto nel mezzo, vive questo scontro con un po' di stanchezza. Non lo so. Pareri? E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube, così non ve li perdete. O a cercare il canale Telegram dedicato alle notifiche, lo trovate in descrizione. E vi ricordo ancora che il progetto è sostenuto da un sistema di abbonamento, il Breaking Italy Club, che finanzia tutto quanto e permette di accedere ad alcuni privilegi e contenuti speciali, come i biglietti in anteprima. Andate su breakingitaly.club per saperne di più. Era tutto, fate i bravi, ci vediamo domani, con una voce migliore.